Avvocato Petrelli, quarto piano, tripla fattura al Malleolo. L'avvocato insiste a giocare al calcetto, ma alla sua età... Ma lei lo sa che l'effrazione è un reato? Ma noi siamo le forze dell'ordine. Lei no. Ormai ho fatto. Si faccia da parte. Codice rosso, eh? Le giuro che era qui. Il corpo era qui, dietro il divano. Ma è inspiegabile, no? Rondine, dal momento che siamo qui diamoci un'occhiata in giro. E si ha bottoni. Ma non è che un corpo può sparire così, no? Eh no. Non è che si può volatilizzare. Commissario, qui non c'è niente. Ma io ho visto tutto dalla finestra. Era sdraiata qui per terra, che poi ho pensato Rita. Ma come Rita? Ma non aveva un volo intercontinentale? E lei come lo sa? Beh, aveva un trolley medio. Rita aveva con sé un trolley medio. Sai, io osservo. Ah, le osservo. Senta, fattano. No, aspetti. Le dico che era qui. Era sdraiata qui per terra, vestita da hostess. C'è stata una colluttazione. Che tra le altre cose, ho visto anche l'aggressore, ho visto nel viso, mentre scappava. Aveva un viso, come dire, buonasera, Rita. Agitato. Rita. Che cosa sta succedendo qui? Grazie. 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 Grazie.